Ok ragazzi, quindi, allora, sono andati in cucina, ho bevuto del tè, ho acarizzato un secondo ragazzo che aveva messo una scatola ogni soggiorno e sono tornato subito qui a distanza di un minuto diciamo. Ok, quindi, la tattica per andare bene su Youtube ragazzi è avere luci accese perché veramente se no ti senti a spomparti e anche registrare il gameplay tanti l'uno dietro l'altro perché i primi 10 minuti ragazzi sei sempre un po' spompato perché devi prendere, abituarti diciamo, devi prendere la mano, riprendere il polso lì col gameplay e dover parlare. Ok, poi dopo 10 minuti ti abitui, quindi devi andare avanti a fare il gameplay perché sei già abituato a parlare, infatti all'inizio ero un po' spompato, pochissimo, ma era un po' più spompato di quanto avrei voluto esserlo diciamo. Ok, quindi l'ultimo salvataggio è sto qua e carichiamo subito via la cosa, la registrazione va che è una meraviglia e andiamo avanti. Qual è il mio obiettivo? Oh che figata, non hai fatto sto qua. Ok, anche l'orologio si è bloccato a metanotte. Ah, troppo figa altrimenti. Slide to unlock. Ci sono davvero dei telefoni che non sono fatti così slide to unlock, cioè, bella questa roba qui. Ok, ci aveva detto di incontrarci alla piazza della fontana che non ricordo. Qui c'è una fontana. No, dai, ti prego, non mi fai andare in giro finché non succedono robe interessanti, cioè. Continuiamo la spazzatura. Oh, qui dentro c'era l'anello che mi piaceva tanto. Non c'è nessuno a sorvegliarlo. Papaculo, spacca tutto, spacca tutto. Ah, dai, ok, andiamo avanti. E... Dove abbiamo detto che lavorava il nostro padre? Dai, ma che palle! Ok, di qui. Bloccata, una crepa. Un attimo, se mi fai entrare qua ci sarà un motivo, no? No, no, sì, forse. 205. Più avanti bisogna andare qua, ne sono sicuro. Intanto... Asciamola qui. Si vede anche che ha fatto lo stesso creatore, perché... Perché anche su Paranoiac, ragazzi, dovevi andare in giro perché non succedeva qualcosa. C'era una parte dove io sono andato in giro per tutta la casa, non è successo niente. Ciò che dovevo fare era non andare in giro, andare soltanto in un punto della casa, cioè nel corridoio in alto a destra. Soltanto così scattava il filmato, altrimenti non succedeva niente. Ospedale... Ok, ne voglio andare in ospedale di notte, ho paura. Ok. Perfè. Un cazzo di niente. Tipo svenuto, un cazzo di niente. Casa nostra. Potrebbe essere gente sveglia, deve andare a dare occhiata. Ah, no, ok. Ah, ok. Che palle! Dai, no, 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 non voglio fare 10 miliardi di tagli solo per sta boiata qui. Torniamo qui dentro. Nel posto dei soldati. Ok. Nostro padre dove lavorava, cazzo? E' fottutamente chiusa. Per di qui non c'è, diciamola assieme, un cazzo di niente. Cazzo, sono un po' raffreddato, aveva bisogno di un fazzaretto, maledizione. Questa cosa dice qua? Chiuso. Appartamento di Ferdinando. Penso che sia qui dove vive David. Ah, ok. Che cazzo è sto posto? E' qua, però, eh, insomma. Chi me lo diceva? E' qua. Integato del mese Chuck Filer. Per, per aver fatto un'offerta su, con, su, strasuccessi, con, su, ok, un attimo, dislessia, ragazzi. Per aver fatto un'offerta molto buona, vantaggiosa, alla Street State Bank. Strani occhiali, che, che strani occhiali è questo tipo. Scusami, ma, il, il, buon lavoro non è una scusa. Lame, l'es, lame, l'es, cosa significa? Ah, dice che ha lo sguardo un po' da, sfigato, ma vabbè. Ok, ho capito dove devo andare. Abbiamo, abbiamo bisogno di trovare la, la, questa specie di coso qui per andare qui dentro, immagino. Però, nessuno mi dice, forse dove andranno a dare un'occhiata, oh, io non penso di aver saltato. Cioè, non mi dicono, vai qui a dare un'occhiata, no. Oh, controlla Stabaldrack. Banca. Bloccata. Security card. Posso dare indietro la carta più tardi. Dannazione, cosa avevamo detto nel dialogo di prima? Cioè, cosa dovevo fare, incontrarlo? Non mi ricordo che dovevamo andare a, dovevamo incontrarci a, caffè? Ah, ah no, ok. Ci avremmo detto, incontriamoci qui, ma, porca troia, ragazzi. Sta riposando in modo pacifico, casa sospetta. Cosa dice qua? Un appartamento, è bloccato. Uh, appartamenti molto sospettosi. Ok, vendite per appartamenti. Dannazione. Una fontana che gli fa schifo, non vuole controllarla. Il caffè dove ci contiamo di solito, mi sembra. Un giardino. Ok. Stop qua, vedo cosa avevamo detto nell'episodio precedente, che forse mi è sospicito qualcosa. Controllo il ciccione qua. Vieni qua, ciccione. Vieni qua, ciccione. No, non hanno ciccione niente, ok. Ci si vede dopo. Ok, aha, ho bene. Allora, quindi. Nostro padre, mi sono riascoltato il video precedente. Nostro padre, ragazzi, lavora. Non mi sono guardato un walkthrough, non ancora. In attimo di tanto salvo qua, che ho fatto un po' di spostamenti. Va bene. Nostro padre lavora. Ora mi ritrovo, se lo vedo. Eh, lo sapevo io che devo andare qua. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, me lo segna. Che quando non sai cosa fare è controllare sempre la mappa. Madonna, mi veniva da chiudere la finestra, ragazzi. Per poter chiudere la mappa, così sputtanavo tutta la registrazione. Ok, dobbiamo andare a JP, Gordon, Chase, Ekoe, WTF, I don't care, ok, andiamo. Ok. Scusate, per un secondino. Si sta andando, bene. Che palle però, non so dove andare al computer bollente. Fa caldissimo, ragazzi. Oh, metropolitana, ragazzi. Oh, di quando ci siamo andati? Cristo, ho visto cosa muoverci qua, verso il basso. Guardate, io lo indico con le mani, qua. Non so se l'avete visto voi. Tornate indietro il video se non l'avete visto. Ticket, ok, macchinette per i biglietti. Oh, stesso tipo con gli occhiali. Lui dice, c'è una carta. C'è, come dire, c'è la corrente, va, ma non sembrano funzionare. Una mappa. Ok, vaffanculo. Vedete, lì, ragazzi, c'è il cassetto motion, come si chiama, è il tipo che è stato eletto e impiegato nel mese, che lavora lì. Lo riconosco dagli occhiali. Quindi, questo tipo qui avrà di sicuro una carta, la, come dire, un ID card, quella lì, una di quelle carte lì che ti fanno da chiave per poter entrare dentro le porte tecnologiche, diciamo. Il punto è che è bloccato. E io devo mettere sta roba qua a uno. Che sono risposta? Madonna mia, se mi dà un frizzino ogni volta che sparo una combinazione a caso, Ok, quindi, cerchiamo di capire qua, come funziona. Ok, quindi, ragazzi, HMS, HMS. Eh, no, scusami, item. Ok, quindi, un attimo, eh. Allora. HMS, che, per cosa sarebbe? Perciò, 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 vabbè. Dobbiamo andare a trovare le robe in giro, ragazzi, ok. Vai, sali. Ok, quindi, stiamo facendo progresso, intanto. Edificio senza porte, ragazzi. E... Uh, uh. Danna, come diceva, è bloccato, è chiuso, è tutto, ok. Maledizione. Aspetta, dobbiamo qualcosa di... Possiamo chiamare qualcuno? Nessuno, ragazzi. Dai, adesso mi dobbiamo andare in giro. Trovo una roba, per poter avere quella roba lì, devo fare prima un'altra roba. Quindi, ora devo andare a pellegrinare il giro, come un frate francescano. Finché non mi capita... Wow, 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 wow. Non... Ah, un attimo, ragazzi. Fermi, fermi tutti. È qui, quindi, il posto dove andavamo a mangiare io e il nostro amico. E se ci ha fatto entrare, ci sarà un buon motivo, no? Tutto sferma a mezzanotte. Ah, ah. È chiusa. Eeeh, che cazzo, dai, cioè... Maledizione, no? Io non vado a cercare... Io vedo sempre i cestini, ma io non vado a cercare i cestini, cioè... Chi è che lascia carte per la sicurezza nei cestini? Resta qua aperto. Ma è il mio dittino veloce. Vaffanculo! Ok, una fabbrica è chiusa. Oh! No, 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 di qua non posso andare. Però forse qua... C'è del ferro, ragazzi! O qualcosa di simile. Dai! Che palle! Forse qui... Un attimo, eh. Forse qui... Maledizione, è tutto bloccato. Ma chi cavolo, cioè... Qui non posso neanche andare, è un vicolo cieco. Non posso neanche andare su, perché le latine mi bloccano. Mi tocca andare per di qua, per forza. Niente. Ok, ora vado a cercare tutte le stanze. Magari qui trovo... Quella di un impiegato della ferrovia, chi lo sa. Dai! Che palle! Me la faccio con voi, sta qui. Niente, una sega di niente. Andiamo giù. Un ficus! Stesso ficus di paranoia, ragazzi. Giù, sinistra. Giù. Giù. A sinistra. Forse questa fontana qui... Non lo so perché è proprio la fontana, ragazzi. Un attimo, ma cosa sarebbe sta roba qua? Fammi andare a sinistra. Cos'è sta roba qua? Va bene, non ha importanza. Libri. Eh, bene, 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 ok. Lingue sulla lingua. Libri sulla lingua. Libri pratici. Un registro. Lo sapevo. Non penso che sia una buona idea lasciare la porta aperta quando c'è una cassa qui dentro. Fregatene! Il register, quindi, è cassa. Ok. Un po' che interessante. Questo qui è aperto, chissà perché. The Vengance. Non so cosa significa. Il coso dell'inferno bolle nel mio cuore. La morte e la disperazione sono tutte quante fiamme che si abbattono su di me. If Sarastro non componere il tuo sentimento, il dolore della morte, poi tu diventerai, non sai, più mia figlia. Ragazzi, ho fatto la traduzione da prima elementare. La mia professoressa in inglese mi bocerebbe. Disowned may you be forever, abandoned may you be forever, destroyed may you be forever, all the bones of the... No, pensavo fosse una poesia, ragazzi, quindi ve l'ho letta. Stavo cercando di leggere così, come ce l'avevo in inglese, ma non faceva rima. Com'è se sto cominciando a impararmi le poesie di Shakespeare? When in Apriest get the... No, vabbè, desciamo perdere. Destroy the be forever... No, non ho tradotto, frega un cazzo. Se non attraverso te, Sarastro becambi diventerà un compagno. Ascolta il dio della vendetta. Ascoltate il dio della vendetta. Sentite il pianto di una madre. Poi ce l'avevo già sentito prima. L'auto magico, giusto? Donna mia, questi libri qua io non li leggerei. Abbiamo appena preso un libro, ragazzi. Ce l'ho qui, lo sto tenendo in mano. Copertina rossa. Niccolò Machiavelli. Oscar Scuola, tra l'altro. Il principe, ragazzi. Sono quei libri che... Che fanno male, nel senso che... Potete usarli, fanno male sia agli occhi quando li leggete, perché è scritto in piccolo, tutto compatto e robe varie. Sia se li usate come arma, perché voi avete tipo gente che vi sta entrando in casa vostra. Vi affacciate sul balcone e li tirate dietro allo stesso effetto di un sasso, ragazzi. Allo stesso effetto di un fucile, maledizione. Il principe. E non è scuola, ragazzi. Non comprate... Non è sponsorizzazione. Non compratevelo, ragazzi. Io non so perché parto tempo così. Infatti anche Chris mi ha detto che mi ha dato parto tempo nei Gameplay, frega niente. Andiamo avanti. Decisi, determinati. Ficus. Libri per bambini. È la libreria più triste del mondo questa. Storie e cazzate varie. Maledizione. Ok, boiate che non mi interessano. Oh, è bloccata. Ma verrà, non me l'aspettavo. No, dai, non mi direi che io devo riuscire a farci la specie di indominello qui. No, ti fotti. No, te lo scordi. Un attimo che tra l'altro qua... Non posso controllare niente. Ok. Proviamo a... Un attimo, ragazzi. I fiori. Ok. Niente di niente, ragazzi. Andiamocene via. Dai, ma che roba. Hotel. È bloccato, è chiuso. Scrivi qualsiasi altra cosa, ma basta scrivere chiuso, ti prego, non ne posso più. Banca. Quello lì aveva fatto un affare con la banca. Ed è chiuso. Forse questa qua ha una specie di... C'è un'altra carta che ci aiuta. Forse è il cestino. Il cestino. Dove sono? Dove sono? Ok. No, il cestino non contiene niente. Questo cestino qui è sospettoso. Non contiene niente. Mi sa proprio che di qui a poco cominciano ad esserci tagli. Anzi. I tagli arrivano subito. Bruttissimi figli di puttana, ragazzi. Guardate cosa dovevo fare. Walkthrow. Mi sono fatto tutta la città. Tutta la città. Più di una volta. Indovinate che cosa dovevo fare. Guardate. 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 12. 0. 0. 1. 2. Non devo toccare nessun altro. Madonna mia. Madonna mia. Vabbè adesso trovo. Io adesso passo all'ugiatismo. Solo potrei trovare qualsiasi scusa. Potrei andare a casa degli sviluppatori per entrare in una casa. K47 superi il culo, ragazzi. Non possono fare queste robe qua. Io come... Cos'è un HMS? Vaffanculo. Io come faccio ad arrivarci? Devo controllare il telefono. Cos'è un HMS? Vaffanculo. Harold, Meat, Sherry. Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo te. Perché non fa più? Vaffanculo te stupida cosa di merda. Vaffanculo voi. Vaffanculo i fantasmi fottuti. Vaffanculo te o chi ha luto di merda. Vaffanculo tutto. Sta registrando almeno, vero? Sì. Sta ripresando pacificamente. Madonna carola, ti lutto e ti stupro, madonna. This guy... È al lavoro con il papà. Di che significa che lui deve avere un passo per forza? Ecco qui. Un passo per impiegati. Mi scusi, mister Chuck. Sto vaccino per una buona causa. Abbiamo preso il suo... Ok, un attimo che ragazzi... Il gioco è buono a farmi morire ora. Maledetti vigliacchi. No, questa qui è... È stata giusta come la seconda guerra mondiale, ragazzi. Cioè, la seconda guerra mondiale... È... È ingiusta. Allo stesso livello di questa roba qui. Proprio sono due robe che non dovevano essere fatte, ragazzi. Non intendo il gioco, ragazzi. Ma intendo nemmeno questa parte qua. Questa parte qui proprio non... Poi, guardate qui, questo ciccione qui cos'è... Perché è fatto così male? Vabbè. Ah, maledizione. Ah, vabbè ragazzi. Ma sì, dai, da tanto che non vi faccio. Vi faccio due gameplay lunghi stavolta. Vaffanculo. Voglio... Penso che tra poco comincerò a recensire anche paranoia che gli altri giochi che ho fatto, ma... Ho avuto un problema che, sapete come... Avevo già registrato tipo 5 consigli utili su Civitas 5. Proprio... Imperium Civitas... Eh, Civitas 5... Sì... Su Imperium Civitas 3. Proprio consigli che mezzo neanche... Non trovate neanche nelle wiki che io... Super esperto di Imperium. Una monetina, vi costruisco un imperio e vi ribatte a tutti i nemici. Però il telefono non me l'ha registrato. Ho fatto casino. Non ho capito che devo fare. Dovrei, quindi, ragazzi. Vi faccio capire che gli aggiramenti che devo fare. Faccio il gameplay parlato. Tipo con... No, vabbè, anzi no. Non ve lo spiego neanche perché vi annoio. Cos'omai... Ve lo spiego nel prossimo episodio, se siete curiosi. Ah! Fatemi le domande per i vlog, ragazzi. Voglio... Ehi, Chris. Vogliamo fare un vlog. Scusate, ho preso il fazzoletto. Un vlog dove rispondiamo alle vostre domande per i 200 iscritti. Perché... Ma... Non ci fate domande, ragazzi. Fateci domande. Tipo 10 domande a caso su... Tutto quello che volete che vi rispondiamo in un vlog. Che... Ci stiamo preparando bene per il vlog. Non sarà una roba sparata, cazzo. E... Ok, un card reader. No, ho saltato. Va bene, non me ne frega niente di quello che diceva. Ok. Scusate. Chiuso, no, invece. No, va bene, ragazzi. Io qui... Nuova area, ragazzi. Io qui sono veramente abbastanza stufo perché... Mi sono andato in giro però... Ho tipo... Mi... Perché poi non mi sembra neanche che ci indichi tutte le strade. Se voi avete presente... Farvi tutto il giro della città, più o meno. Guardate, ho fatto questo. Guardate. Da qui... Ho fatto il giro per così, così. Sono andato su per di qui. Sono andato di qua, di qua. Poi sono tornato su di nuovo. Sono andato in ogni piccolo cieco. Sono tornato su. Ho visto ogni cosa qui. Controllato ogni appartamento. E poi sono finito che dovevo... Scoprire che dovevo fare questa roba qui. Sapete? Ciò quanto... Quanto grava, ragazzi. Quanto ti stufa. Vabbè, io lo stopo qui, ragazzi. Che ho anche il naso che... Ah, mi... Sono un po' raffreddato, diciamo. Io comunque sia... Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Anche se... Non ho mostrato praticamente un cazzo. Vaffanculo, vado avanti, ragazzi. Non ho mostrato un cazzo in sto gameplay. Lo faccio per voi. Una macchina misteriosa, una macchina misteriosa. E quindi i documenti. Ragazzi, io volevo finire qua. Vado avanti per voi altri 20 minuti. Ficché non succederebbe qualcosa di importante. Tutte le camere si bloccano alle 10 pomeridiane. Non posso... Nessuno può entrare e uscire. Quelli che rimangono per più... Per oltre devono fare un avviso. E basta. Non me ne frega niente. Ok, sì, ho ripreso un attimo per via di una roba. Ho stoppato un attimo. Ok, quindi... Via freccetta. Qui che c'è? L'ascensore bloccato. Eletronicamente chiusa. Reception. Cazzo di niente. Stanza della guardia, dei soldati. Aha. L'ascensore bloccato, sappiamo già. Personal division. Eletronicamente chiusa. Eletronicamente chiusa. Che poi, conoscendo il gioco, dovrei ricordarmi ogni cosa, ragazzi, ma... Ah. Divisione legale. Eletronicamente chiusa. Quando sarò re d'Italia, ragazzi, creò un esercito, una brigata che si chiamerà divisione legale. Che cazzo. Eletronicamente bloccata. Investimento in barca chiusa. Eletronicamente, giusto? Sì. Chiusa, ed era... Eh... Lui lavora in banca, tipo, elettronicamente bloccata. Eh? Mercato globale. Che poi, tipo, mercato globale, ragazzi, avevo letto qua. Ed è tipo una stanzina come la camera di Chris. Come camera mia, meglio. Oh, ok. Non ho neanche detto cos'era. Management. Dove, vabbè, qua si lavora. Un grafico di qualcosa. Quello lì, blu, ragazzi, è il grafico del nostro canale. Va sempre su. Colori rosso, ragazzi, invece, è il grafico di... Non lo so. Vogliate varie. Ok. Non posso neanche controllare una stampante. Oh, oh, questo qui è il posto di nostro padre. È diverso. È una mia foto. Doveva essere la cattedra di papà. Proprio buttato nell'angolino. Toh, schiavo, lavora. E il computer è ancora acceso. Forse è qui da qualche parte, eh. Forse è nella stanza per gli incontri. Ah, che carini. Scissi, Salvini. Scissi. No, io chiedo ai Chris che mi tagli via via WhatsApp una foto di Salvini che dice scissi. Ma che foto vecchia da tenere qua. Qui è da quando era l'asilo. Che carina, però. Ricordi. Papà, papà. Ehi, ehi. Ho fatto un disegno a scuola oggi. Siamo io e te, papà. Vuoi vederlo? Ok, lo sai che mi piace vederli, ma scusami, ma papà è un pochino stanco. Me lo potresti mostrare domani. Va bene. Ah, oggi sono andato a cercare lo Chupacabra, perché i bambini sono, così, i bambini sono, diciamo, fantasiosi. Sono andato a cercare il Chupacabra, ma non lo so, cioè, io so che è Chupacabras. Cos'è un Chupacabras? Con Regan e i suoi amici. Ma noi ne abbiamo trovato. Sì, dai, sai, il Chupacabra. Dai, sapete, il mostro. Ehm... I messicani dicono il Chupacabra ci ciuppa le capre. Oh, ok. L'ho detto all'insegnante e lei ha detto che il Chupacabra vive soltanto a sud. Che peccato. Quindi salta ogni volta, è proprio saltata. Quindi io voglio andare a sud e cercare il Chupacabra. Possi venire un giorno con me, papà. Scusami, soffi, ma papà è veramente occupato di lavoro. No, potremmo andare in vacanza per un bel po'. No, voglio andare oggi. Scusami, vieni con me, papà. Cattureremo il Chupacabra insieme. Va bene, Sofì. Andremo a catturare questo weekend. Puoi aspettare fino adesso. Oh, rai! Ah, al punto di oh, rai. All right. Cioè, va bene. All right. Dicono oh, rai. Perché sono bambini, là. Perché io da piccolo non pronunciavo bene le S. Perciò, quindi... Oh, rai! Ok, non posso aspettare. Va bene. Papà, hai bevuto del succo? Voglio anch'io del succo. Mmm. No, non ho bevuto nessun succo. Mmm. Hai del succo di pomodoro sulla tua bocca. Ah, perde sangue, ok. Donna mia, ma è il nostro padre. Sto qua, cioè... Io me lo immaginavo con dei... Dei... Come si chiama? Dei banon? Avrà 16 anni, non ha le rughe. Fateglielo, vabbè, che ho spuscato. Ma fateglielo le rughe. Ci rimane di merda. Eh, eh. Diventato tutto nero, ragazzi. Prendiamo spazio di nuovo. Ah, ok. Zia. Ah, abbiamo ancora una zia. E lo sai... E lo sai... Ero lì, nel primo posto. Già, non lo so. Dice, ma che... Fratello... Testa di cazzo. No, ma che fratello cocciuto, te l'ho detto. Vuoi onorare... Ma esiste nel logo, non so che sia. Cosa? Cioè, dice sto qua che collasserà per via del troppo lavoro. Lei ha bisogno di farsi un'istituzione. Zio. Ah, zia e zio. Sembrava un ospedale, ragazzi. Forse abbiamo entrambi gli zii medici. È vero, ma... Ho già due bambini, quindi non posso prenderla. Forse posso raccomandarlo a un'istituzione. Zietta. Sofì. Ecco, quindi sei qua. Cosa è successo con papà? Gli fa male. Tammi, non so che sia Tammi. Cioè, sta male? Aspetta, no. Chi parla? Ho fatto casino! Ah, Sofì. Non so che sia Tammi. Cioè, papà, il nostro padre sta male perché si è tirato un po' troppo su con il lavoro. Papà morirà come mamma. Oh mio Dio, paranoia, sconsolala. Cosa? Certamente no. Tu sei una brava bambina, Sofì. Sono sicuro che tuo papà starà meglio presto. Su serio? Sì, certamente. Ok, Sofì. Ora fai la brava bambina e non preoccuparti per tuo papà. Ok, abbiamo una zia abbastanza buona. Come su Paranoiac. Madre! In entrambi i giochi, una da madre... Guardate, ragazzi. Il concept. Il concept. Paranoiac. Entrambe ragazze, potremmo dire, con problemi, con problemi e pressoché sole, ragazzi. Entrambe vengono aiutate da un tipo che è innamorato o in calore, a seconda di Paranoiac. Se si tratta di Paranoiac o The Sandman. Perché quello di Paranoiac era in calore, non era innamorato. Era come gli animali. Ci abbiamo... Qui, sull'altro, ci abbiamo la madre stronza. Qui ci abbiamo la madre assente e morta. Ma su... Il padre non si sa niente, diciamo. Qua si fa poco. Sull'altro, invece, un attimo. Quello è l'altro punto. Oh Cristo, mi sono dimenticato il punto più importante. Ecco. E su entrambi ci abbiamo le zie che sono apparentemente buone, diciamo. Proprio la stessa persona che ha le stesse idee, solo che li adatta a temi diversi. Papà. Scusami, papà. Sono stata troppo... Ho pensato solo a me stessa e ti ho fatto preoccupare. E ti ho fatto... Non so che sia a temi. Forse... Temi, 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 temi. Vi scrivo... Vi scrivo... In alto a destra, temi. Cosa significa dopo? Non voglio più pensare solo a me stessa, no? Non chiederò più un gelato prima di andare a letto. Ma... Mangierò i miei broccoli... E le cipolle. E non voglio più piangere quando non sei con me. Mi parerò a dormire da sola di notte. Quindi... Quindi per favore stai meglio presto papà. Parti veramente molto delicate ragazzi che dipendono molto anche per un gioco a pixel qui. Cioè... Cioè... Se non fosse che il gameplay fa buchi tipo da... Da parecchie parti io direi che... Cioè... Sanno giocarsela bene, dai. Spero che stia bene. Devo trovarlo in fretta. Mi straprendono i ricordi come su Paranoiac. Paranoiac mi ha strappreso. Controlliamo qua. Tutti gli... Tutti i cassetti sono bloccati. Lui era nella meeting room, abbiamo detto, scusa. Qui è ancora l'ascensore di sicuro. Sì. Cioè... Penso che non mi sia mai sacrificato così tanto di andare avanti a... Potrei essere andato a letto, mangiare, potrei... Ehm... Giocare a... Non... Essermi riguardato tutto il gameplay, tutto quello che volevo, ma in realtà sono qui. Fare il gameplay per voi. No, aspettate. Sono molto, sono andato giù, ok. Guardiamo qua che c'è. Ok. Ok, andate, come mi interessa. Divisione della ricerca equatoriale. Equity Researching Division. Quando diventerò imperatore d'Italia, ragazzi, farò una truppa di soldati chiamata Equity Researching Division. Non so che significa, ma è troppo figo, demoralizza i nemici. Poi creò una seconda divisione chiamata Project Planning Development Division. Che anche sto qua è il nome figo degli soldati dei nemici. Information Researching Division. E creò anche una terza brigata chiamata così. Che cazzo sto dicendo, ragazzi? Cos'è, cos'era questo? Ah, non è gioco senza suoni, ragazzi, è proprio... Ma so poi la noia che c'era il rumore dei sassi. Qua invece, ogni suono che mettono è un copyright, ragazzi, quindi meglio che stiano in silenzio, dai. Ma cos'era questo? Forse lei ha sentito il rumore. Che altro di rumore vuoi aver sentito, scusa? Qua è bloccato, forse si è bloccato qualcosa. Qua è bloccato... E vado su. Vabbè, un attimo. Non facciamo gli stronzi. Si è... Si è fermata, ha detto cos'era quello. Forse ho sentito qualche rumore per venire qua giù. La sensore no, perché è bloccato. Non vado fino al piano di sotto. Un attimo, eh. Cioè, cosa diceva? What, what, that? What, what, that? Non imponere... Ok, no, vado ancora, vado su. Corri, 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 corri. Andiamo su per di qua. No, un attimo, un attimo. No, 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 un secondo. Ah, no, perché ogni tanto mi mettono le porte, tipo qua. E io non le vedo sempre. Cioè, almeno... Non le scambio subito per porte, diciamo. Ok, andiamo su. La stanza diventa sempre più inquietante, di colore strano. Ecco qua, meeting room. È elettronicamente chiusa. Ma vaffanculo. Eh, sì. Meeting room 2. È elettronicamente aperta. Meeting room 3. Oh, motherfucka. Wow, si è venuto a guidare. Ah, nostro padre. Nostro padre non ha... Dio, come ho fatto a scambiare i baffi? Però non ha l'importanza. Si mette a guidare. Wow. Papà. Papà, che cosa c'è? Sofì, sei qui. Sofì, corri, è pericoloso qui. Stanno arrivando. Cosa? Cosa sta arrivando? Godzilla. No, dai. Porca troia, un pokémon. Cattura. Che cazzo... No. Non ho salvato, porca vacca. Eh, sì. Charizard, usa. Lancia fiamme. Cosa? Sofì, corri. Papà. Vieni con me, presto. Devo salvare. Prima che succeda, va bene. Ok, ecco, infatti. Merda, merda, merda. Merdinsky, merdonsky. Corri, corri, corri. Ma dai, devo prendere le curve strette. Ciao, Charizard, usa volo. Qui ci voleva i Chris, ragazzi. Lui suoi fottuti pokémon. Devo prendere le curve strette. Porchinsky, porchonsky, scendi. Giù, 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 giù. Si avvicina. Com'è che si è scatenato un... No! No, me, 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 cojone, me, cojone, ragazzi. Tre scaffetti per penitenza. Sì, dai, qua, basta correre, cioè. Ci riescono anche le scimmie a fare sta roba qui. Subito a destra, scatta. Scatta, 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 scatta. Meglio evitare le fiamme, dico io. Ah, no, non ci fanno niente le fiamme. No, ci bloccano, va. No, ma prima era un bug, perché io mi... Ma con le fiamme ci bloccano altre. No, ragazzi, va. Che roba. Cioè, ma che roba, cioè. Non è un casino sta parte qui. Tanto ci sta attaccato al culo che è una meraviglia, sto tipo qui. Giù, scendi, scendi, maledetta baldracca. Dove devo andare? Addio, papà. Porca troia, ragazzi. C'ho il computer, ragazzi, che dopo ci cuoccio. No, dai, la smetto, perché veramente sta... Sta povera bestia sta lavorando come un... Come si chiamano? Un computer quantistici, da, che... Che ti calcolano il mondo. Perché alcune fiamme bloccano altre? No. C'è razzismo. Tu fiamma, sei inutile. Tu fiamma, non blocca, no. No, via, 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 via. No, no. Ci sta attaccato al culo che è una roba meravigliosa, ragazzi. Via. Via, 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 via. Su, su, su. Su, ora. Su, subito. Corribano, ma dai, mondo merda. E non mi ricordo la pianimetria del posto, cioè. Tipo, e non chiedetemi perché di la totale assenza di suoni, ragazzi. Adesso poi hanno... Ma sono io come... Non c'è neanche l'opzione per mettere in mutuo. Cioè, non so perché è così, fin da suoni. Cioè, che anche meglio così, perché uno su due di suoni parano... Sono protetti da copyright, quindi ancora meglio. Eh, però mi dà fastidio, cioè, che... O non c'hanno musiche o sono protetti da copyright. Cioè, è brutta questa cosa qui. Merda. Merda, 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 merda. No. Sì, sì, non ci hai seguito. Ah, ma dai, mi hai seguito tutti i coglioni, cioè. Io ho i capelli che mi arrivano fino alle ginocchia, non cado mai, tu, cioè. Papà. Sofì, corri, vai via da questo edificio. No, papà. Siamo stati respinti. Dio, che male. Papà, ho anche le fiamme. No, fanculo, sto trattando che l'abbandono. Cosa? Papà? Papà? No, io non so perché dicono papà, ma non, padre. Daddy. Però un momento è solo un sogno. Questo deve essere solo un sogno. Che poi potrebbe essere anche solo un sogno, un incubo. Sto soltanto avendo una notte bruttissima. Perché io non posso, non lo so, ombre nere, costrani soldati. Draghi lancia fiamme, madonna mia. La professoressa d'inglese, quando aveva fatto Beowulf, non potevamo dire dragon. Fire, breathing, dragon. Se io dico dragon, no, tre. Devi dire fire, breathing, dragon, madonna cara. In inglesi non esiste per loro la parola dragon, solo fire, breathing, dragon. Voglio solo svegliarmi, non voglio... Non voglio più dormire, cazzo. Però solo la parte finale, va bene, lo vedete voi. E se non posso svegliarmi, allora aiuto, per favore, qualcuno mi aiuta. David, aiuto. Sbaglio pure, è più sicuro in volto. Papà, dove sei? No. Papà, dove sei? Salva. Ok, andiamo a sovrascrivere i nostri salvataggi precedenti, ora. Va bene. Quindi ragazzi, abbastanza caro, ho fatto bene a continuare perché altrimenti sarebbe venuto fuori un gameplay troppo spompato, ragazzi. Vediamo quanto siamo con la registrazione. Ah. 20 minuti di registrazione, ragazzi. Due gameplay lunghi, uno di seguito tra l'altro per farmi perdonare e direi che siamo a posto così. Ciao a tutti, ci si vede al prossimo video. E ricordatevi le domande per il vlog. Sporatemi ogni boiata che voi avete, tipo... Tipo... Qualsiasi domanda, dalle più stupide alle più intelligenti, fateci domande che rispondiamo dai vlog, perché ci abbiamo già alcuni argomenti pronti per il vlog, però abbiamo bisogno di alcune domande, quindi fateci delle domande. Anche se... Anche tu, Claudio, c'è un altro che ci segue, non mi ricordo su un nickname, che ci segue tanto. Fateci anche 30 domande, vi rispondiamo a tutte. Ci fa sempre piacere, ragazzi. E diteci se volete che vi salutiamo dal video. Ciao a tutti, sto perdendo respiro, ciao a tutti.